Sì, 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 sì Eccoci qua, eccoci qua Ehi Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ferma! Ferma! Chi è? Adi boni, come dici per te Adi bravi Un po' avanti, cortesemente Eci qua! Volevo andare! Volevo andare! Volevo andare! Volevo andare! Allora, messa a girarla Adiediamo il campionario da spalle nuova Gaidano Sant'Evolo Arma adesso, ma adesso facciamo il campionario Amico Mila Foggia La 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 l ח и la 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 Allora facciamo il campionario No 감사합니다 Chissimo, chissimo, chissimo Chissimo, chissimo, quarto,... Oh sì, sì... Volevo andare! Perché, perché in questa notte Le ore più lunghe ne rotta sono qua Ma perché ogni minuto si va Ma nel buon incendiccio Ma perché ogni minuto si va Influenza Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.